buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao ragazzi i bancomatti quest'oggi i bancomatti vi portano una cromo di cornina grandissima pan di stelle cioè chi non ha mai mangiato i pan di stelle a chi non piace i pan di stelle e chi non si scassa di pan di stelle allora finiamo pure tu li mangi i pan di stelle basta basta cuba ma nel tuo posto non fa il casino con i pan di stelle non te li do i pan di stelle no aspetta questi non sono i tuoi biscotti basta al casino allora finiamo subito in un angolino almeno riusciamo a spiegare meglio vai se non abbaglia ok guarda con la corda dell'occhio a vai mi chiede allora ragazzi ci siamo nuovo volantino conand controllate perchè poi abbiamo detto conand e conand vabbè dai ci sta conand ad esempio con la c controllate bene il vostro volantino perchè dei punti vendita hanno aderito nel primo blocco del mese ora siamo nel secondo blocco del mese yes praticamente conand ci propone un corso che vi hanno segnalato tempo fa con un acquisto di una confezione di biscotti o di plum cake mulino bianco leggete il regolamento in caso fosse variato qualcosa solo con uno giocando i dati dello scontrino possiamo portarci a casa la macchina del caffè della snap che era tipo 400 e qualcosa euro di premio con un euro per farvi capire quella tipo vintage si no la linea quella della snap tipo vintage comunque vi mettiamo un po' di foto rossa mi pare che era non mi ricordo non mi ricordo c'è la foto che è non me lo ricordo non me lo ricordo proprio non te lo so dire perchè magari cambiano sempre magari poi li spediscono random per i colori bisogna andare a leggere il regolamento con una confezione di biscotti mulino bianco di plum cake si vince questa macchina giocando lo scontrino vi segnaliamo che a cona di biscotti sono in offerta a un euro abbiamo tranquillamente gli abbracci i pandistelli i batticuori i nascondini a un euro i nascondini sono quelli ricoperti dentro bianchi fuori e dentro sono marroni quelli di spezia metallo e bicolor no non li ho mai mangiato ti dico ciocco creme hai presente? si ma lo biscotto più alto ah ok però sempre tipo pasta froda ok 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 li trovate a un euro scontati del 40% la porzione è da 3,50 vi segnaliamo il pandistelle perchè col pandistelle potete segnalare i codici che trovate qua mi sembra che con l'acetone viene via vi scrivete il codice ne potete raccogliere ve li c'è la raccolta punti con 4 punti riceverete il libro magico il richiamo dei sogni raccontato da pandistelle inquadra le pagine del libro e la magia del racconto prenderà vita grazie alla realtà aumentata dell'app i sogni ecco la realtà aumentata poi se no con 8 punti cioè con 8 codici riceverai l'esclusiva sciarpa pandistelle e il diabete e il diabete che tu le hai scassato male i pandistelle o se no con 11 punti tutte e due i premi libro e sciarpa poi vi abbiamo segnalato il pacco piccolo vi diciamo che il pacco grande non è in offerta quindi essendo non soggetto a promozioni possiamo avere cashback di tutta 60 centesimi che burro 60 centesimi promo valida fino al 24 di ottobre per quanto riguarda il cashback di tifrutta se lo trovate in offerta c'è scritto anche su tifrutta accumulabile con altre promozioni quindi spacchiamo tutto e possiamo prendere fino a 5 pezzi cerchiamo di postare il video il prima possibile ma il volantino è appena arrivato e niente stessa cosa su quello grande troverete il codice allora ragazzi il concorso della macchina me l'abbiamo girato in un video vi alleghiamo la scheda informativa in alto così ci potete arrivare provate anche semplicemente senza che un euro tante volte vi avvisiamo il giorno prima vengete un euro in tasca per la promo di domani questo qua è un buon caso se siete fortunati che il vostro conad aderisce la promo a volantino provare con un euro non costa nulla perché comunque voi biscotti vi li portate a casa non è come i gratte vinci che gratti i soldi li hai buttati qua è il prodotto pagato un euro è anche un punticino che volendo puoi scambiare nei portali di scambio e tranquillamente il gioco è fatto guarda il volantino mi sembra che scada al 30 ah una cosa prima cosa chiunque chiunque avesse un modo avesse un modo per bruciare qualche caloria facendo qualche qualcosa di particolare con i pan di stelle perché mangiare così ci spreca troppo poco magari fare qualcosa qualche ricetta qualcosa così magari qualcuno se lo sa lo scrivo qua sotto nei commenti no ricetta ci stai? ci hai? si ufficiale? no vuoi fare la torta pan di stelle? ma trovo è bellissima lo vuoi fare? già i pan di stelle sono una poteosi di bontà se tu me li metti poi pure la torta no allora ragazzi ve lo diciamo se volete c'è da precisare allora io faccio il cuoco però ho già provato a farla e mi piace farla è semplice l'ho portata a una festa a compleanno di bambini buonissima io non l'ho mangiata perché solo che l'ho fatta sono ingrassati esatto non è stato male nessun bambino quindi sono forte i bambini sono tutti bambini e sono grandi no se volete facciamo un video dove vi insegniamo a fare la torta con i pan di stelle cioè è proprio un video molto serio non è giocoso proprio un tutorial su come fare la torta da poco vi dico che la possono fare tutti quanti è una delle torte più facili del mondo non c'è bisogno di grandissime accortezze è una torta comunque a freddo davvero facile guarda hai visto che ho avuto un'idea vai 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 ci sta ci sta ci vedete qua sotto nei commenti se volete vedere va bene va bene o se con qualche altro prodotto casalingo che ha la mano che non sapete cosa farci per smaltirlo io ve lo faccio volentieri cioè vi faccio vedere nei limiti delle mie conoscenze e le mie capacità vi faccio vedere anche perché noi adesso abbiamo otto confezioni di pan di stelle qualcosa bisogna inventarsi anche torta bisogna regalarla quindi per forza è così vai beh come prima dei contest non va bene mettere la torta pan di stelle la bocca e lo piacere vicino che è un segno da morte esatto Miki io a questo punto direi comunque sei raccomandati ciao ragazzi continuate a seguirci commentare come state facendo mi raccomando un occhio al nostro canale telegram con tutte le super bombe le super promo amazon che inseriamo tutti i giorni alla mattina e alla sera continuate continuate a seguirci sui social facebook twitter e instagram mi raccomando ci state veramente facendo felici vediamo vediamo proprio i click vediamo gli ascolti siamo veramente felici un abbraccio dei pancomatti ciao